Ok, eccoci qua. Eccoci qua, questo è un livello che io amo, diciamo la verità. Davvero? Sì, diciamo che io lo odio, perché adesso si farà un massacro a tutti gli armi. Ed è per questo che vi abbiamo detto di tenerlo. Ah, aspetta che potrei mirare io. Vai. Stiamo perdendo a mirare. A mirare speriamo più colpi che neanche a niente. Questa cosa. Adesso spunteranno persone come fuori. Occhio che si nascondono. E' per questo che vi abbiamo detto di tenerle armi. Pensate di andare a volte qui. Impensatele. Esatto. Però noi, che non abbiamo spiegato un colpi, adesso siamo carichi carichi. Possiamo andare tranquillamente. A sparare gente. Allora, tanto con il massacrato con costume, il gastro non ce lo torna nessuno, eh. In stile Pokémon diciamo che sono semplicemente fuori combattimento, che non sono morti. Ma non è pieno, non è pieno. No, ma non è pieno, ma non è pieno. No, ma non è pieno. I kit sono preziosi avendo nessuno di me, no. Ah, dov'è passare alla moto nelle prossime livello che avrò, io poi. Cioè, la briggera è tantissimi. bisogna imparare a conservare scusate per colpa che c'è l'utilizzo del bagno siamo morti oh mamma ragazzi siamo là fuori io andrei a prendere la misa l'abbiamo conosciato questo dovrebbe riequilibrare le risorse e le riequilibri tranquillo tranquillo che riequilibra ecco la gente servano ventico per evitare l'attrice per morire che resistenza hanno voglio capire hanno vissuto il giubbotto di proiettili che non curiamo sono un'infinita stiamo facendo fuori in metà dell'accumazione così c'è lo fatto abbiamo tutto tutto ci sono così interessati a questo posto eh perchè? perchè questo posto è una cosa bella l'acqua 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 è molto bella l'acqua 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 e l'acqua E allora ci siamo nel castello e ricominciamo le bocce. Esatto. E via. Perché avrete imparato che preservare le armi è molto utile. Esatto. Quindi finché si può, lottate con le vostre forze, con le vostre gambe in tutti i sensi. So di qua facciamo vedere, non c'è una mazza, c'è una porta che non si apre. Esatto. E' una bottiglia. No, non c'è una mazza. Sì, perché andiamo diretti perché le cose le sappiamo, però riuscite a mente, uno può chiedersi di là. E di là vai come la mazza. E' un po' lì. Perché ricordiamo che noi sappiamo un pochissimo di manoparte, se noi non si volete cercare di esplorare un po' di più. Giustamente. Si sta. Io non ricordo solo qualcuno di manoparte. Uno me lo ricordo e so che non andremo a prenderlo perché lei non può sottolineare di me. Quello del primo di Hong Kong. No, di Hong Kong. Del primo di Castello dell'Iperatore. Ecco. Mamma ragazzi. Infatti, quello se volete morire 50 volte fate. Lo ho preso una volta e non l'ho preso mai più. Esatto. Ho provato anche a prenderlo, ma lascio un pezzo. Ma perché nei bagni ci sono sempre i miei, mi dici scusate. No, non è il bagno. E vabbè, la punta c'è sempre un nemico. Perché anche loro hanno scoperto che è l'acqua della ragionezza. Eh, c'è giù anche la bianca. Hanno scoperto anche loro, quindi. Tra l'altro in questo caso è proprio fonti di vita. Eravamo proprio un po' corto, eh. Esatto. Proprio un po' corto. Esatto. Proprio un po' corto. No, perché lo tengo via? Ancora. Trova la tua memoria. Si arriva subito, io non me lo ricordo più. Prima ho provato. Eh, ma che rischiosa. Esatto. Esatto, io vi faccio così, di solito. Non metti ansia. Prendettiamo queste cose che tanto parlano. Ma sì, diciamo che ha origliato che c'è giù. Più che origliato ha spiato, che c'è giù gente. Quanto a quante? Ah no, vabbè, non è mio più, scusatemi. Infatti mi trovo le robe. No, esatto. La mitragliatrice è sempre tenerla proprio fino all'ultimo. No, perché? Non pare. Ho bisogno di un bordo. Chi se ne prega te dal posto? Chi lo vuoi? Cosa ho detto che abbia bisogno di un bordo? Ah, pure a scendere un bordo. Quasi cosa ti lascerei che mi riuscire? No. Un tavolo che si rompe, ma ve lo dico, non lascia cambi da tavolo. È un dispiacere che non vi dico. No. Io amo picchiare con le gambe. Quello è un altro. Su Winn di Sete Scilento, se ho qualche popolo di accessori, lo ero ancora di più, perché per fare due passi ci impiegava tre ore di riporto. Ricordi? Sì, probabilmente poi neanche altri di prendi accessori, non lo so. Però quel gioco abbiamo fatto in una volta. Il colpo non botto sotto. Ah, però! Questa sghiama botta di Kurt. Sì, adesso non devo fare un pò di roma. Vortura. Oddio volevo dire... Ma parvä la rovin, sarà domani. il pugnale da lanciolare che bisogna tenere, basta, non c'è più niente, possiamo andare quante volte pensi che lo ripariamo sto pezzo? no fai tu eh non cominciamo col pessimismo fai tu eh facendo le ore al filo poi alla catena poi non mi salti però non sembra abbastanza il cac ci si scendeva di uno si scendeva di uno, brava forse c'è un po' un po' io ragazzi se moriamo non è che conosco no, ma che vado a perdere un po' di vita si, esatto non si muore definitivamente no, si muore dopo la seconda volta tipo ma forse anche dopo la terza perché perde solo un po' due due e mezzo, tre due e mezzo, tre mi è piaciuto il due e mezzo, tre ma dobbiamo calcolare si così ci piace no, tenetevi con gli originali e via e si va potte e si va potte e si va potte e si va potte ma scusate ma si vuole già dirci di prendere l'oggetto ma vorrei dirgli che ci sono momenti come direbbe il professor Rocky in Pokémon c'è un tempo e un modo per ogni cosa esatto e questo non è il motivo esatto il professor Rocky dice questo ogni volta che vuoi usare la bici in acqua o in acqua in una droga o in casa no, non è vero sa puoi in casa quando tenti di pescare sull'erba perché lui ti dice c'è tempo e modo per ogni cosa e questo non è il motivo in realtà dove venire qui oh ma la bici in acqua ma c'hai lì oh ma non è che mori io no vai bene bene troppo io tra un po' piglierei dell'acqua ah no 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 vuoi andarci proprio giù per da mi sono rotta ci ha colto di mano è divazzato ma se l'ha preso lui questo è un buono questo è un buono questo è un buono questo è un buono esatto cosa ho imparato non è cosa è pieno non è pieno alla lungher l'alberto mi ha piuttosto l'alberto mi ha piuttosto l'alberto ok 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 questa porta rilassati rilassati ok ci vediamo questo nuovo livello ciao ciao